17 hotel di Pesero avrebbero evaso il corretto versamento della tassa di soggiorno al comune di Pesero negli anni compresi fra il 2012 e il 2018. È quanto emerso da una indagine del Nucleo di Polizia Economico-Finanziare delle Fiamme Gialle di Pesero coordinate dalla locale Procura della Repubblica. L'indagine si è articolata attraverso il raffronto fra le dichiarazioni trimestrali presentate dai gestori degli alberghi e il versamento effettuato Da questa disamina è stato accertato che nove società e una ditta individuale avevano sistematicamente omesso il versamento della tassa di soggiorno relativa ai 17 hotel che gestivano per un importo di imposte e vase di circa 300.000 euro. Dieci persone responsabili della gestione alberghiera sono state dunque deferite all'autorità giudiziaria in quanto, essendo deputati alla riscossione del tributo, rivestivano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e le loro condotte hanno comportato il reato di peculato. Nei confronti di tre soggetti denunciati che non avevano proposto alcun piano di rientro del debito nei confronti del Comune è stata avanzata dal PM titolare la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni. Così il Tribunale di Pesero ha emesso due distinti decreti di sequestro per l'ammontare complessivo di 115.000 euro. Per i soggetti coinvolti è già intervenuto il rinvio a giudizio con relative segnalazioni alla Procura regionale della Corte dei Conti di Ancona evidenziando le responsabilità amministrative di sette persone e un danno erariale complessivo di circa 170.000 euro nei confronti del Comune di Pesero. Sono già scattate alcune sentenze di condanne in primo grado e per alcune posizioni è già stata fissata l'udienza.